bene 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 ciao ragazzi proprio te proprio te stavo cercando parrucchiere che fa gli allungamenti dei capelli questa sera parleremo di allungamenti di capelli mi viene a ridere perché ogni volta che intraprendo un discorso di allungamenti di capelli secondo me non vengo ancora mai capito ok quindi oggi mi va di raccontarvi nuovamente la storia che c'è dietro un allungamento di capelli dietro un allungamento di capelli c'è un universo un universo che noi parrucchieri delle volte abbiamo ci concentriamo su determinati servizi e nei trascuriamo altri che possono avere delle potenzialità non indifferenti quindi eh i corsi di AI Station che vengono sempre realizzati online e anche dal vivo potete andare su callori.it e potrete vedere il palinsesto dei corsi ma potrete anche visionare i i centri AI Station che in Roma sono una decina sono pochi va benissimo pochi ma buoni e e quindi eh potrete ehm indirizzarvi per una consulenza ehm gratuita con porta aperte AI Station dato che le feste sono vicine dicembre è vicino oggi abbiamo ventiquattro sicuramente tra una settimana già arriveranno gli addobbi perché abbiamo sempre anticipato le feste e quindi eh farsi un regalo o regalare un AI Station alla tua amata potrebbe essere un un buon regalo un buon regalo adesso in settimana farò altri video dove vi presenterò delle partite dei di capelli fantastici e quindi interagiremo con o il parrucchiere o con una cliente che voglia fare ehm le station eh vi lascio anche il mio numero di telefono in sotto pressione sotto basso basso e per chi mi vorrebbe contattare sia per i corsi di AI Station qui a Certocelle in piazza in via eh dei Gerani 65 dove realizzo sia eh questi video dove ho questo studio laboratorio dove vado a creare delle creazioni di capelli per divulgarli e promuoverli e quindi ehm ricordiamoci porta aperta AI Station il mese di dicembre con tantissime promozioni non è vero che solo l'estensione sia carissima ma ci sono delle promozioni adeguate al tuo stile perché delle volte uno crede spendere tantissimi soldi ma poi eh in base alla lunghezza che tu desideri potresti spendere di meno e rimanere contenta anche perché la maggior parte poi di tante station si montano lunghe e poi si ritagliano per creare una forma eh adeguata alla persona quindi ehm ma questo non è un problema andate su callori punto it c'entri AI Station ma vedrete il parrucchiere della vostra zona potete prendere un appuntamento direttamente perché ci sono e i numeri di telefono e una consulenza gratuita non costa niente zero zero quindi prepariamoci prepariamoci per dicembre per i parrucchieri l'invito eh venire nel gruppo privato ci sono veramente tante tante novità e per la gente comune vi aspettiamo nei centri AI Station di Roma grazie e ci vediamo alle prossime per queste lotti di AI Station rally Grazie a tutti.